Il romanzo di cui vi parlo oggi è intriso di mistero e ha fatto la fortuna di una delle autrici forse più dimenticate e sottovalutate della storia della letteratura inglese. Sto parlando di Lady Odley's Secret di Mary Elizabeth Brown. Lady Odley's Secret va a scavare nell'intimo, nel fulcro della società vittoriana, cioè la famiglia. Un romanzo ebbe così tanto successo che Mary Elizabeth addirittura chiamò, forse in un eccesso di cattivo gusto, la villa che riuscì a comprarsi con i proventi del libro, addirittura la chiamò Lady Odley's Mansion. Il mio consiglio è quello di leggere con avidità questo libro veramente molto interessante e fra poco uscirà un racconto meraviglioso, non vi dico nient'altro, che ho avuto l'onore e il piacere di curare. Si tratta di un altro racconto, ma la scrittrice è sempre la stessa, per cui rimanete connessi.